Buongiorno, vogliamo discutere qui alcune motivazioni che sono la base del nostro interesse verso i calcolatori quantistici. Una motivazione importante è legata alla legge di Moore, che fu formulata nel 1965 da Gordon Moore, cofondatore di Intel, il quale, sulla base di osservazioni empiriche, ipotizzò che il numero di transistor per circuito integrato sarebbe raddoppiato ogni 18 mesi circa. Si tratta di una legge di crescita esponenziale e ne vediamo l'impatto. Infatti, in solo i 40 anni, dal 1971-2011, abbiamo osservato un aumento del numero di transistor per chip di ben sei ordini di grandezza. Questa crescita ha leggermente rallentato negli ultimi anni. Siccome si tratta di una crescita esponenziale, quindi non è pensabile che possa continuare per sempre, è importante chiedersi quali sono i limiti ultimi che la fisica impone alla legge di Moore. Se guardiamo nella tabella la dimensione attuale dei transistor, vediamo che siamo a dimensioni di circa 5 nanometri. Vuol dire che siamo arrivati alle dimensioni per le quali gli effetti quantistici diventano importanti. A questo punto siamo di fronte a un bivio. O consideriamo gli effetti quantistici come indesiderati e cerchiamo di limitarli per quanto possibile, oppure cerchiamo di cambiare logica, prendiamo un approccio molto più rivoluzionario, cioè cerchiamo di costruire delle vere macchine quantistiche che funzionino seguendo una logica quantistica. Che vantaggi ci sarebbero? È stato sviluppato un software per i calcolatori quantistici e sappiamo che alcuni problemi possono essere risolti da un calcolatore quantistico in modo molto più efficiente che mediante un calcolatore classico. Questa classe di problemi comprende la ricerca di un elemento in un database senza struttura, oppure trovare i fattori primi di un numero intero. Questo ultimo sembra un problema puramente accademico, ma in realtà è alla base dei codici crittografici a chiave pubblica usati oggigiorno. Infatti questi codici si basano sul fatto che non esistono algoritmi classici in grado di risolvere il problema, cioè di trovare i fattori primi di un numero intero in modo efficiente. Esiste un tale algoritmo, chiamato algoritmo di Shor, per un calcolatore quantistico, per cui un calcolatore quantistico di grande scala, se costruito, porterebbe a rompere i codici crittografici usati oggigiorno. Un'altra importante classe di problemi riguarda la simulazione di sistemi fisici, in particolare di sistemi quantistici fortemente correlati, quindi problemi quali la superconduttività e il magnetismo che hanno un interesse sia fondamentale ma anche applicativo. Qual è la differenza tra la logica classica e la logica quantistica? L'elemento fondamentale per un calcolatore classico è il bit classico o c-bit. Un bit classico può trovarsi solo in due stati, che chiamiamo 0 e 1. Una rappresentazione fisica di un bit classico è mediante una lampadina. 0 corrisponde alla lampadina spenta, 1 la lampadina accesa. Un qualunque messaggio può essere codificato mediante un linguaggio binario. Ad esempio, se vogliamo trasmettere il numero a 49, possiamo rappresentarlo in binario come una sequenza di 1 e di 0. Quindi 1, 1, 0, 0, 1, che nell'esempio precedente si leggerebbe lampadina accesa, lampadina accesa, spenta, 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 accesa, che vediamo sviluppando in potenze di 2 ci dà proprio 49. Un bit quantistico o q-bit è invece un sistema quantistico a due livelli. Esempi fisici sono uno spin e un mezzo, gli stati di polarizzazione di un fotone, quindi la polarizzazione orizzontale e la polarizzazione verticale sono i nostri stati 0 e 1 del q-bit, oppure due livelli atomici. Una visualizzazione geometrica conveniente dello stato di un q-bit è mediante la sfera di bloc, che è una sfera di raggio unitario. Ogni stato del q-bit corrisponde a un punto sulla superficie della sfera di bloc. Gli stati 0 e 1, che corrispondono agli stati possibili per un bit classico, corrispondono al polo nord e al polo sud della sfera di bloc. In generale, però, possiamo avere un generico stato sovrapposizione degli stati 0 e degli stati 1, che, mediante gli angoli polari e sferici t-t-fip, viene individuato mediante un punto sulla superficie della sfera di bloc. In pratica, com'è che possiamo realizzare lo stato sovrapposizione degli stati 0 e 1? Vediamo questo esempio. Abbiamo un nucleo e un elettrone che può trovarsi in due orbite attorno al nucleo. Vediamo che inizialmente sia nello stato di più bassa energia che corrisponde allo stato 0 del nostro q-bit. Supponiamo che adesso il sistema, il nostro elettrone, venga inraggiato mediante una luce a una frequenza opportune per un intervallo di tempo opportuno, in modo tale che l'elettrone viene eccitato e si trova alla fine nello stato 1. Se adesso il tempo di interazione lo dimezziamo, l'elettrone alla fine si troverà in una sovrapposizione degli stati 0 e 1 con uguale peso. Possiamo pensare a un calcolatore quantistico come una collezione di n qubit. Questo è avere n qubit e avere la sovrapposizione degli stati quantistici alla base del cosiddetto parallelismo quantistico. Cioè è possibile evolvere tutti gli stati possibili di input in un unico run. Vediamo l'esempio seguente con 3 qubit. Abbiamo 2 alla terza 8 possibili stati di input da 0, 0, 0 fino a 1, 1, 1. Possiamo preparare il nostro sistema in una sovrapposizione di questi 8 stati. Facciamo evolvere il sistema e quindi valutiamo in un unico run, in un'unica evoluzione dinamica dal nostro calcolatore quantistico la funzione f per tutti gli 8 stati possibili di input. Questa è proprio un'evoluzione fatta in parallelo. Quindi parliamo di parallelismo quantistico. È chiaro che il numero di possibili input cresce esponenzialmente con il numero n di qubit. Per capire l'importanza di una crescita esponenziale possiamo pensare all'aneddoto del faraone e degli scacchi. La leggenda narra che un ambasciatore persiano insegnò al faraone a giocare a scacchi. Il faraone fu così contento che disse all'ambasciatore che poteva scegliere una ricompensa. L'ambasciatore chiese la cosa seguente di dargli un chicco di grano per la prima casella della scacchiera, due chicchi per la seconda, quattro chicchi per la terza, otto chicchi per la quarta e così via. Il faraone fu contento di essersi raccavata con poco, solo che quando i suoi funzionali fecero il conto scoprirono che non sarebbe bastato il raccolto di tutto il regno per diversi anni per poter pagare l'ambasciatore. Da un punto di vista pratico cosa abbiamo bisogno di cosa abbiamo bisogno per far funzionare un calcolatore quantistico? Come per un calcolatore classico abbiamo bisogno di un set universale di porte logiche. Vale a dire che una qualunque evoluzione per il nostro calcolatore quantistico deve poter essere sviluppata decomposta in una sequenza di porte logiche elementari. Queste porte logiche elementari comprendono trasformazioni unitarie e trasformazioni di porte logiche per un singolo qubit più una porta logica a due qubit che può essere la porta Cnode che descriveremo tra poco. Si disegnano dei circuiti quantistici esattamente come i circuiti classici. ogni linea del circuito rappresenta un qubit. Il qubit può essere preparato inizialmente in uno stato ad esempio nello stato 0 nello stato 1 e si applicano una sequenza di porte rappresentate per esempio H sta per la porta di Adamar e alla fine siccome siamo degli oggetti classici dobbiamo fare una misura per interrogare il nostro oggetto quantistico cioè il calcolatore quantistico e trarne un'informazione. Il gate di Adamar viene da stati sovrapposizione cioè manda 0 a 1 nella sovrapposizione 0 più 1 e 0 meno 1 diviso radici di 2. Il gate di phase shift mette una fase relativa tra lo stato 0 e lo stato 1 cioè 0 viene mandato in 0 e 1 in E alla I fi 1 dove fi ha una fase reale. Il gate ci noti invece è un gate a 2 qubit e opera nel modo seguente inverte lo stato del secondo qubit solamente quando il primo qubit si trova nello stato 1 quindi classicamente è come una porta XOR solo che essendo in meccanica quantistica può essere applicata a una generica sovrapposizione degli stati e la conseguenza fisica importante di un gate ci nota che in generale genera entanglement. Nell'esempio sotto partiamo da uno stato separabile cioè uno stato ben definito per il primo e per il secondo qubit per esempio α0 più β1 per il primo qubit 0 per il secondo e alla fine otteniamo uno stato α00 più β11 che è entangled cioè non possiamo scriverlo come prodotto di uno stato per il primo qubit per uno stato per il secondo qubit l'entanglement è una caratteristica puramente meccanica infatti dopo che due sistemi classici hanno interagito si trovano entrambi in un ben definito stato viceversa dopo che due oggetti quantistici hanno interagito non possono essere descritti indipendentemente uno dall'altro le due particelle quantistiche dopo che hanno interagito mostrano delle correlazioni di tipo non classico appunto in generale mostrano il fenomeno dell'entanglement o della non separabilità quantistica non possiamo cioè assegnare un ben preciso stato individuale a ciascuna delle due particelle ma possiamo solo parlare di uno stato del sistema complessivo delle due particelle alla fine del calcolo dobbiamo misurare i nostri qubit per esempio se il singolo qubit si trova nello stato alfa zero più beta uno otterremo zero con probabilità alfa modulo quadro e uno con probabilità beta modulo quadro quindi lo scopo degli algoritmi quantistici è di sfruttare l'interferenza quantistica al parallelismo quantistico nell'evoluzione del calcolatore in modo opportuno che quando andiamo a interrogarlo alla fine estraendo dei bit di informazione classica questi ci permettono di risolvere un problema di nostro interesse come possiamo realizzare dal punto di vista pratico sperimentale dei calcolatori quantistici siamo attualmente allo stadio di prototipi per esempio questo è un modello ioni una stringa di ioni intrappolati mediante campi elettrici statici ed oscillanti oppure un altro esempio sono qubit superconduttori giunzioni josephson in questo caso lo spin up gli stati 0 o 1 o spin up o spin down per il nostro qubit corrispondono a una corrente che gira verso orario o anti-orario ed è possibile anche creare una sovrapposizione di queste due correnti quindi agisce come un qubit quantistico e i calcolatori quantistici prototipi sviluppati dall'IBM si basano proprio su qubit superconduttori esiste anche un progetto un programma della comunità europea dell'unione europea una quantum flagship che per sviluppare le tecnologie quantistiche non solo il calcolo quantistico ma anche comunicazione simulazione quantistica e la metrologia anche aspetti più di scienza fondamentale infine chiudiamo con una citazione di una frase scritta da uno dei padri fondatori della meccanica quantistica Schrödinger nel 1952 il quale scrisse che noi in realtà non facciamo mai esperimenti con solamente un elettrone un solo atomo una sola molecola sono solamente esperimenti ideali cioè prenderli sul serio porta conseguenze ridicole come pensare di far crescere un dinosauro in uno zoo allora è interessante come a neanche 70 anni da queste frasi le prospettive siano cambiate completamente è vero che non abbiamo un calcolatore quantistico ancora funzionante di grande scala disponibile sulla nostra scrivania però nei laboratori di tutto il mondo si è oggi in grado di fare esperimenti nei quali si agisce in modo controllato sul singolo atomo sul singolo elettrone o sulla singola molecola ciao grazie a tutti